Negli Stati Uniti d'America ci sono 270 milioni di armi possedute dagli statunitensi, 270 milioni lo ripeto sono più del 45 per cento delle armi prodotte nel mondo e purtroppo la correlazione è evidente con quello che è accaduto ancora una volta nella serata italiana di ieri squarciata da una notizia purtroppo molto triste, un'altra strage di massa, ce ne sono state oltre 100 prodotte da armi possedute da una singola persona negli ultimi dieci anni negli Stati Uniti d'America è successo di nuovo ieri sera in Texas e purtroppo di questa guerra, l'altra guerra parlano anche oggi i giornali quotidiani assieme a tanti altri temi locali che affronteremo come facciamo ogni giorno qui a prima di tutto Nigro Costruzioni, creiamo spazi, costruiamo il futuro www.nigrocostruzioni.it Confcommercio Pistoia e Prato Scopri vantaggi di essere socio Scopri vantaggi di essere socio La strage del Texas, come dicevamo, che ha fatto almeno 19 morti, l'altra strage è quella che va in onda purtroppo sulle nostre televisioni, che ci raccontano sui giornali ogni giorno da oltre tre mesi in Ucraina e anche una nomina, il racconto di una nomina che affronteremo, quella del cardinale Zuppi che è stato nominato alla guida della CEI proprio ieri dal Papa, da Papa Francesco, spiegheremo anche come viene raccontata questa nomina e qual è la sua peculiarità rispetto al nuovo corso della Chiesa, almeno quello inteso da Francesco, sono tutti i temi di cui parleremo, lo facciamo nuovamente oggi leggendo i giornali, ricordandovi che in questi giorni è anche in atto una sorta di cambiamento importante per l'emittente da cui trasmettiamo, TV Prato, perché ci sarà appunto un nuovo corso, un nuovo corso che porterà la televisione ad essere visibile in tutta la regione, in tutta la Toscana, appunto già è in atto in queste ore il cambio e quindi la risintonizzazione sul canale 75 a Massa Carrare Provincia, appunto il 29 e il 31 maggio a Lucche Provincia, potrete fare lo stesso cambiando, appunto risintonizzando il televisore e cercando TV Prato sul 75 e non più sul 74 come adesso e appunto poi il primo giugno toccherà anche a Pistoia, Prato, Firenze e a tutte le altre province, quindi a partire da mercoledì vi invitiamo per coloro che ci vogliono seguire in diretta tutte le mattine, dalle lunedì al venerdì oppure sulle repliche appunto dalle 11 o dalle 14 qui su TV Prato a risintonizzare il televisore, un'informazione tecnica importante, visto che parliamo di comunicazione e di metà comunicazione spesso, lo facciamo anche oggi e partiamo da avvenire, non possiamo che partire da avvenire oggi, il quotidiano dei Vescovi dà la notizia che sostanzialmente lo riguarda di più, una chiesa che parla a tutti, Zuppi nominato Presidente Cei, Romano 66 anni, subentra a Bassetti, nel primo commento dopo la nomina il richiamo all'importanza del cammino sinodale e la chiesa che sta per strada e che parla un'unica lingua, su questo punto voglio farvi porre l'attenzione attraverso due approfondimenti, quello di Marco Tarquinio che nell'editoriale racconta che cosa significa essere appunto sulla strada, il posto dei cristiani, scrive Tarquinio, da 2000 anni e più è la strada, ebbene Tarquinio ci spiega perché Matteo Maria Zuppi, Vescovo e Cardinale, nuovo Presidente della Cei, l'ha scandito in modo limpido ieri nelle prime dichiarazioni dopo la nomina del Papa, seguita alle tre indicazioni dell'Assemblea dei Vescovi italiani, sapete come funziona, i Vescovi indicano una terna di nomi, in questo caso le terne sono state due perché dalla prima si è sfilato appunto un candidato, però in entrambe le votazioni dei Vescovi Zuppi è risultato il più votato e il Papa ha scelto il più votato, non era costretto a farlo, insomma non era condizione appunto necessaria, però il Papa ha scelto questa persona che è una persona particolare di cui vi diciamo attraverso le pagine di Repubblica, ho scelto Repubblica ma tutti i giornali oggi danno conto di questa figura abbastanza sui generis. Il Cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna è il nuovo Presidente della Conferenza Episcopale italiana, lo ha scelto Papa Francesco nella terna proposta ieri mattina dai Vescovi riuniti a Roma e questo è quello che vi dicevo, vi dico anche chi erano gli altri due candidati, i nomi del Cardinale Paolo Lo Iudice che peraltro insomma qualcosa con la Toscana aveva a che fare dato che è arcivescovo di Siena e dell'arcivescovo di Acireale Antonino Raspanti. Bergoglio ha scelto il presile uscito con più voti fra i tre, come vi dicevo, l'uomo su cui rilanciare la CEI, dice Repubblica, dopo i 5 anni della Presidenza Gualtiero Bassetti ed evidentemente qui si nasconde nelle parole anche un giudizio di merito rispetto alla guida di Bassetti da parte di questo articolo. Zuppi e Lo Iudice erano stati dati per favoriti da tempo, Raspanti era stato invece indicato come possibile outsider, la votazione è stata doppia seppure molto veloce e qui ci spiegano su Repubblica come avviene la scelta anche dal punto di vista tecnico, ma quello che io invece vi volevo far vedere sempre su Repubblica che dedica pagina 2 e 3 a questo approfondimento sono le due interviste interessanti perché sapete che Zuppi è arcivescovo di Bologna, è cardinale e quindi le interviste che ha scelto Repubblica e il quotidiano degli Elcan sono settate su questa città. Prodi, si parla dell'ex Presidente del Consiglio, dice amico e autorità spirituale, scelta giusta per il rinnovamento, è inutile, vi leggo dall'intervista effettuata da Eleonora Capelli e inutile che io nasconda la mia felicità per questa nomina, mi dispiace solo per un motivo, non vorrei che Matteo Zuppi abbandonasse un po' Bologna, ma ho capito che riesce a tenere entrambe le cose e quindi sono contento perché darà un bel impulso al mondo cattolico italiano. Romano Prodi ieri ha festeggiato la nomina alla guida della CEI di quello che considera un amico, infatti sappiamo che fra il Cardinale e il Professore c'è una lunga frequentazione, ma anche l'intervista al cantautore, scrittore, autore Guccini che evidentemente conosce bene il personaggio, si sono conosciuti nel marzo del 2016 andando sul treno della Memoria ad Auschwitz, ci racconta Emanuela Giampaoli, luogo a cui Francesco Guccini è dedicato una delle canzoni sue più celebri, sappiamo tutti Auschwitz, è nata così la strana amicizia fra il cantautore e il Cardinale di Bologna Matteo Maria Zuppi, Presidente, neopresidente della CEI. Che effetto le ha fatto questa nomina, che effetto le fa questa nomina, chiede la giornalista? Guccini risponde, è una bellissima notizia, io e mia moglie Raffaella gli abbiamo mandato un messaggio per congratularci, ne sono felice, è una persona di grande valore oltre che un amico. La nomina di Zuppi ovviamente ha fatto discutere molto anche il mondo della cultura, della politica, ci soffermiamo per questo, in realtà diciamo che è romano e proviene della comunità di Sant'Egidio come formazione culturale, però insomma in questi anni la sua scalata anche rispetto ai temi che ha affrontato stando vicino agli ultimi è stata evidente ed è evidente anche il fatto che Papa Francesco voglia scegliere questa strada per la Chiesa. Andiamo ancora avanti con le prime pagine dei giornali, vi facciamo vedere il Corriere della Sera. Piano di pace, il no di Mosca, Medvedev che è il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, sapete insomma che in alternanza diretta con Putin è stato il braccio appunto di questa leadership, boccia la proposta italiana, se ne è parlato molto nei giorni scorsi di questa proposta italiana, però in realtà anche Di Maio ora dice che questa proposta di pace è solo allo stato embrionale, qua invece purtroppo vediamo a centro pagina quello di cui abbiamo parlato in apertura, la strage dei bambini a scuola e ci sembra di leggere un titolo che abbiamo letto tante altre volte purtroppo e vi abbiamo spiegato anche perché. Almeno 18 allunni e due adulti tra le vittime ha ucciso il killer 18enne e appunto qua Guido Olimpio che è l'inviato dagli Stati Uniti d'America ci racconta anche che cosa è successo. Io insomma ho preso anche alcune pagine di giornale che lo raccontano con maggiore attenzione ma vi invito come sempre a comprare i giornali perché insomma è così che si approfondisce, questa è una vetrina in realtà. 20 morti, 18 bambini e due insegnanti, un numero imprecisato di feriti compresi due poliziotti, alcuni in gravi condizioni e il bilancio di una nuova sparatoria, una nuova strage americana, questa volta è caduto in una scuola elementare a Uvalde, un villaggio rurale del Texas, sapete insomma nel sud degli Stati Uniti, siamo nel sud degli Stati Uniti, al confine con il Messico, infatti a metà strada tra San Antonio e il confine messicano. La polizia ha ucciso il killer Salvador Ramos che è un ragazzo 18enne, uno studente di 18 anni, il governatore del Texas Greg Abbott ha detto che l'assassino era un abitante della piccola cittadina, un altro giovane quindi protagonista di una vicenda ghiacciante a pochi giorni di distanza dalla carneficina in un supermercato di Buffalo nello stato di New York, come vi dicevo la scia di questi attentati è piuttosto lunga e ci deve far riflettere non solo quello che abbiamo detto all'inizio, cioè il numero di armi che sono vendute in America, ma anche il fatto che la maggior parte di queste stragi, leggendo i giornali capiamo, sono ad opera di giovanissimi, questo vuol dire che c'è una correlazione forte fra il disagio giovanile e la possibilità che questo disagio possa essere perpetrato o indagato da chi lo vive attraverso l'uso di armi che evidentemente se non fossero a disposizione ci sarebbe sicuramente un finale diverso per queste persone, questo ci dispiace molto perché siamo a commentare spesso notizie simili riguardo alle armi negli Stati Uniti d'America e forse dovrebbe essere di insegnamento anche per quello che riguarda quello che accade nel nostro paese e il dibattito che c'è sul nostro paese. Le mani su blanco, Massimo Gramellini parla di questo episodio che riguarda il famoso cantante che ha vinto Sanremo in coppia con Mahmood, si parla di molestia sessuale perché ha un concerto, sostanzialmente sarebbe stato toccato nelle parti intime proprio da coloro che erano in prima fila, un dibattito che ha il suo senso e che magari approfondiremo nelle prossime giornate. Passiamo al fatto quotidiano, l'antimafia di Draghi, c'è aria di liberi tutti, un'accusa pesantissima che leggiamo sul Fatto Quotidiano, infatti dice il jacuzzi di Gratteri, il sottotitolo da Costanzo, il famoso magistrato che ricordiamolo è stato in prima linea negli ultimi anni per la lotta all'andrangheta e che è stato depennato dalla lista dei ministri di Matteo Renzi a quanto pare, a quanto raccontano le croniche politiche dall'ora Presidente Giorgio Napolitano, fa un pesante jacuzzi appunto, il Premier sa solo di finanza, dice Gratteri, è la restaurazione, i politici si vendicano su uno IPM, siamo ancora allo scontro fra politica e Toghe che ha caratterizzato con varie sfumature gli ultimi anni. Ancora un approfondimento interessante, a parte sul foglio del giornale di Cerasa, il bel cambiamento della CEI si chiama Matteo Zuppi, il cardinale che da Sant'Egidio riporterà la Chiesa Italiana al centro del villaggio ed è il tema che abbiamo approfondito precedentemente, ma qua vi voglio invitare ad approfondire anche questo, cioè un'Europa cum grano salis, perché la pace passa dal cibo? Questo è un dibattito molto interessante perché ovviamente si parla di convogli per il grano, si parla del Donbass, si parla di un problema che riguarda non tanto solo le materie prime dell'industria, ma anche quelle che ci permettono di sostentarci, sapete tutti quanti che è un problema principale di quelli che sono correlati al conflitto ucraino, non dobbiamo perdere di vista come non dobbiamo perdere di vista tutto quello che riguarda l'energia e tutto quello che influirà sulla finanza, per questo vi faccio vedere solo le 24 ore, perché la finanza è importante, perché poi riguarda direttamente l'economia reale al rialzo dei tassi, ovviamente corrisponde un rialzo anche dei nostri mutui, dei nostri pagamenti, dei nostri prestiti, quindi è tutto correlato con l'inflazione, anzi con la stagflazione, stagnazione più inflazione che incombe, dobbiamo averne coscienza, appalti, ecco come cambiano le regole, concorrenza, ultimi ritocchi all'intesa, nella prima parte si parla di appalti, è molto importante perché sapete tutti che nel piano nazionale di rilancio e resilienza ci sono delle difficoltà, denunciano gli amministratori riguardo ai progetti che sono stati presentati e soprattutto riguardo alle tempistiche, dato che tutti sapete che debbono essere rendi contatti entro il 2026 e invece la seconda parte del titolo del quotidiano di Confindustria riguarda la concorrenza, ultimi ritocchi all'intesa, la legge appunto, la riforma che ci chiede l'Europa e in particolare i balneari sono nel mirino di questa concorrenza. Repubblica, il Papa sceglie Zuppi, il Cardinale degli Ultimi, un reframe che ritorna, per chi ascolta il podcast su Spotify compare una grande foto del Cardinale Matteo Zuppi appunto, nuovo Presidente della CEI con Papa Francesco, invece Repubblica ci ricorda ancora una volta quella che è stata una tematica appena affrontata e sottolineata dal sottoscritto appunto, la guerra del grano, il titolo principale del quotidiano diretto da Molinari è Putin affama il mondo, von der Leyen segnali di una crisi globale del cibo, la Cina pronti a mediare per i corridoi nel Mar Nero, sappiamo che la Cina ha evidentemente un ruolo importante, abbiamo parlato anche della tensione con gli Stati Uniti, su Taiwan scendiamo sulla Toscana, Corriere Fiorentino, sacrificio Odeon, sarà meno cinema, una libreria al posto della platea, sapete c'è una grande polemica su questo, insomma sul cambio di destinazione d'uso o meglio ancora sul cambio di alcune funzioni di una sala così importante come l'Odeon a Firenze, ne ha parlato anche il sindaco di Firenze Dario Nardella qui prima di tutto proprio qualche giorno fa, anzi per la precisione lunedì, scomparirà la platea al suo posto, ci scrive Edoardo Semmola, la libreria, perché sapete che il progetto è di Giunti, editori, per vedere i film ci saranno a disposizione, ci racconta ancora Semmola, 185 posti in platea, poi un ristorante ai lati, con cucina esterna, forse un ascensore se la sopraintendenza approverà ovviamente il progetto, il progetto del nuovo Odeon, targato Giunti, il cinema libreria che dovrebbe inaugurare a fine anno comincia a prendere forma, sapete nei giorni scorsi c'è stato anche un appello per far rimanere in questa maniera il cinema come è oggi, l'editoriale è segnalo di Roberto De Ponti, la realtà e i sogni del 2050 che ci riporta anche ai temi più attuali, dice De Ponti quanto costerà ai cittadini toscani la bolletta dei rifiuti del 2050, De Ponti Maggio si è riunito a Palazzo del Pegaso e appunto ne abbiamo parlato anche di questo col sindaco Nardella che però ha rivendicato la possibilità di avere un dibattito sulla Firenze del futuro, l'apertura del Corriere Fiorentino come vedrete è simile a quella di molti altri giornali regionali, la baby gang ispirata a Scarface, una cosa che è successa ad Arezzo, sono arrivati a fare sei rapine in una sera, ci racconta Simone Innocenti, terrorizzando gli abitanti del centro di Arezzo, la polizia ha fermato una banda che si ispirava a Scarface, insomma è anche un riferimento direi piuttosto datato per dei ragazzi giovani che stando all'età non sono assolutamente, non erano sicuramente nati quando il film è stato girato e proiettato per la prima volta, sicurezza tre rapine in una notte, ancora una volta uomo accoltellato vicino a Palazzo Vecchio e invece a Ponte Bugianese questa storia terribile purtroppo che ieri abbiamo dovuto affrontare, due anziani soli raggirati da un'intera famiglia che gli portava via 13 milioni di Euro, una storia abbastanza agghiacciante, i 4 mesi dell'estate fiorentina sono raccontati sempre sul Corriere e invece possiamo passare a questo punto all'altro giornale di ispirazione regionale, la Repubblica Firenze, Perreira e le spese contestate cucino per gli sponsor, cosa è successo? Che il servo intendente del maggio ha ricevuto una contestazione da parte di Fratelli d'Italia tramite un'interrogazione in Consiglio Comunale per giustificare alcune spese e lui ha risposto in questa maniera, dicendo che i soldi che ha speso con la carta di credito aziendale erano per acquisti di pesce, pane e verdura però fatti per cucinare per gli sponsor, insomma il sindaco Nardella ha promesso che approfondirà qui la versione di Rocco sempre sul Corriere, scusate, su Repubblica Firenze si parla di Rocco Commisso, la società non è in vendita, dice Commisso ieri ha fatto una specie di conferenza stampa, chiamiamola col suo nome, ha fatto una specie di lunga dichiarazione perché le domande non erano ricevibili in diretta, si poteva mandare solo prima da parte dei giornalisti dei quesiti, non è questo lo stile nel quale noi intendiamo il giornalismo, questo almeno lo possiamo dire, infatti stamattina avremo ospite Marco Biagioni che è il segretario del PD di Prato e gli faremo tutte le domande, non le ha volute prima e io non gliele avrei date, quindi lo dico soprattutto perché ci sono anche dinamiche nel giornalismo importanti quando si affronta un'intervista, un colloquio, è bene sapere che ci deve essere apertura sia da parte dell'interlocutore che del giornalista, a questo punto io parlerei della nazione di Firenze molto velocemente facendovi vedere il titolo, ancora Baby Gang, un altro pestaggio a Villa Vogue, l'otto giovanissimi contro due coetani dal primo giorno che affrontiamo questa rassegna stampa, vi diciamo che il problema della violenza giovanile è imperante purtroppo, passiamo al Tirreno di Firenze, la nuova edizione come sapete tutti, abbiamo avuto anche il caporedattore ospite in studio, i bulli pestano per razzismo, ancora più preoccupante questo titolo, la Baby Gang a cui fa riferimento anche la nazione di Firenze, appunto un pestaggio sul quale alleggia lo spettro del razzismo, ci raccontano Calì e Leoni, ancora avanti con la nazione di Prato, troppi ordini, il tessile non ce la fa, questo è un tema interessante, un tema economico che riguarda il distretto della città di Prato, un tema che adesso approfondiremo con il nostro ospite, ora che la Cina frena, ci racconta Silvia Bini a pagina 4, il distretto non ne approfitta, mancano le materie prime, le aziende sono poche e quindi purtroppo c'è questo problema per il distretto che è alle prese con una ripresa, scusate la cacofonia, una ripresa complessa, complessa, pestaggio shock, c'è l'aggravante della crudeltà, i due arrestati in silenzio di fronte al GIP, si parla dell'aggressione di giovedì scorso per cui sono stati arrestati due ragazzi, purtroppo un giovane ragazzo nordafricano è in ospedale e fino a ieri le sue condizioni non erano affatto buone, ci racconta Laura Natoli, invece passiamo ancora al terreno di Prato per concludere, il giornale ci racconta ancora una volta quello che è stato un dibattito che anche qui, se vogliamo, è stato affrontato ieri con il parlamentare di Cambiamo, Giorgio Silli, Tribunale di Fida al Ministro e quindi si parla ancora del fatto che il Tribunale di Prato abbia gravi difficoltà, vedete, insomma Pasquale Pretella ci parla di questa vicenda che come sappiamo tutti è molto grave perché la carenza di organico e la fatiscienza delle strutture non permette un funzionamento corretto della giustizia a Prato soprattutto, devo dire che è un problema molto comune in grandi parti della Toscana, ne parliamo tra pochissimo dopo il break pubblicitario con Marco Viagioni. C'è chi pensa ad un contributo per il nostro futuro, chi ha creduto in me e nelle mie potenzialità, chi non si è dimenticato di me, chi fa crescere l'economia sostenendo le imprese, con personale qualificato sempre a disposizione. Banca Alta Toscana, sosteniamo la comunità per un futuro sempre migliore. Risonanza magnetica, alto campo, 1,5 Tesla da 130 euro. Macchinaria all'avanguardia, massimo comfort per il paziente. Nessuna lista d'attesa, convenzionati con le principali assicurazioni sanitarie. Aesthetic Medical Care, ogni giorno al tuo fianco. SENSY, firmiamo la qualità dal 1890. Buongiorno, bentornati a Prima di Tutto, bentornati alla seconda parte di questa rassegna stampa ragionata, in cui solitamente, grazie anche a Volocom Tecnosistemi, voglio anche ringraziare come sempre la squadra di tecnici che permette tutto questo, oggi abbiamo in studio Jacopo Richiusa e il regia Paolo Innocenti, permette di approfondire quelle che sono le notizie del giorno che riguardano la Toscana. Oggi ancora di più la città da cui vi trasmettiamo, anche se sapete che non solo parliamo di Toscana e alla Toscana, ma presto parleremo in tutta la Toscana, visto che come vi ho ricordato precedentemente sta per avvenire il cambio che ci porta sul canale 75, ma anche di più in tutta la regione. Ebbene, sono molto felice di poter parlare con qualcuno che è un po' un caso in questa regione, si chiama Marco Biagione, del segretario del Partito Democratico, Prattese. Buongiorno. Buongiorno Marco, tra l'altro diciamolo, Prato è un unicum perché la segreteria provinciale coincide con quella comunale, giusto? Esatto, il capoluogo è enorme rispetto alla provincia. Esatto, la città ha partito, la provincia ha partito, adesso ne parliamo subito. Senti, senta, facciamo così, il suo essere trentenne mi spinge a darle del tu, ma è giusto che metta una distanza. Vado subito sul punto perché a me piace andare sulle cose vive. Lei è definito il segretario giovane, ricordiamolo, 5 mesi fa, dopo aver preso 1100 voti e passa al Consiglio Comunale, record man del PD, insomma che lo sia un record, è stato eletto segretario del Partito Democratico, Prattese. C'è questa retorica secondo cui i giovani hanno sconfitto i vecchi, è vero, è un giovane segretario. Cosa vuol dire essere un giovane segretario? Le pesa? Allora, mai di più falso i giovani che sconfigurano i vecchi, anzi, proprio la nostra filosofia è sempre stata quella non dello scontro, ma dell'incontro fra le varie generazioni, anche all'interno del Partito Democratico. È un elemento importantissimo perché ci sono le nuove generazioni che vivono il mondo, la vita, in maniera diversa rispetto a quelle passate. Però noi dobbiamo insieme contribuire con l'energia dei giovani e l'esperienza di coloro che invece hanno dato le basi affinché noi ci fossimo. Come essere un segretario a 30 anni? Ma per me è una gran fortuna, chi è innamorato della politica e chi come me è innamorato del proprio partito, avere l'opportunità comunque di guidarlo e quindi di dare un contributo è qualcosa di... È più difficile di quello che pensava? Molto più difficile. Io ho un'esperienza, sono stato segretario dei giovani democratici, una realtà molto diversa rispetto a quella del Partito Democratico. Però devo dire una cosa, io non sono da solo, insieme a me c'è una comunità, che non è solo quella espressa dai giovani. Ci sono i segretari e le segretarie di circolo, c'è la mia segreteria, ci sono tutte le persone, militanti e non, che comunque contribuiscono ogni giorno anche a migliorare la proposta politica del Partito Democratico. Questo è un tema che lei ha affrontato anche in campagna elettorale, se così lo vogliamo chiamare, insomma quando c'è stata ovviamente il congresso, io ho seguito un po' le vicende. Ecco, questa idea di comunità, molti le hanno contestato che sia solo un'idea nelle parole, eccetera, che come si fa a trasformarla nei fatti? Cioè veramente lei crede in un partito partecipato? È possibile oggi averlo un partito partecipato? È necessario, noi abbiamo vissuto una fase storica, la viviamo tutt'oggi, in cui nel contesto del centro-sinistra le tante elettrici e tanti elettori, coloro che si rivedono in questi valori, si sono sentiti spaesati. Non è chiaro l'orizzonte, non è chiara la visione. Il Partito Democratico, che è il più grande partito di centro-sinistra del nostro paese, il più grande in assoluto, a Prato ha questa responsabilità, quella di riuscire di nuovo a costruire una visione. Non può che farlo attraverso però la partecipazione delle persone. Molto spesso la politica ha inseguito il consenso. Io credo, io, noi, crediamo invece che il consenso lo si debba costruire. Lo si costruisce giorno dopo giorno attraverso la partecipazione delle persone, l'ascolto, la discussione. Ecco, riempiamo le parole, mi interessa questo tema, perché poi vorrei sempre che si equivochi. Cosa vuol dire però questa partecipazione? Come si esplicano i fatti? Ma su due fronti principalmente. Noi a Gesso stiamo lavorando sulla struttura del Partito Democratico, che già di per sé ha molte realtà che possono creare discussioni, dibattito, ma soprattutto ascolto. Tipo i circoli territoriali, noi ne abbiamo 39 a Prato. Sono un numero molto importante, siamo una delle federazioni con il più alto numero di circoli, disseminati da ogni parte, frazioni e comuni della provincia. Cioè, ecco, quelli sono i luoghi della prossimità, noi lì vogliamo assolutamente creare dibattito, non solo su quello che è il tema dei territori vari, ma anche su quella che è la visione della città, della provincia, della regione, del mondo. E questo è interessante, quindi non la voglio interrompere, però lei dice sostanzialmente diamo ai circoli, ridiamo ai circoli un ruolo importante, centrale. Ha intenzione anche di interpellarli in alcune decisioni? In tutte le decisioni, ad esempio adesso… Non che prima fosse, non lo voglio dire, a scanso di equivoci, non che non fosse nella prassi del partito, però certamente lei, insomma, mi dovrà dare atto che negli ultimi anni il dibattito dei circoli ha inciso meno sul dibattito generale. Sì, sì, ma io l'ho detto apertamente anche nella fase del congresso e anche prima, quindi ne sono cosciente e noi abbiamo voluto cambiare paradigma. Tanto che almeno una volta al mese i segretari si riuniscono tutti insieme in un'assemblea in cui si decide insieme come poter costruire il percorso di decisione della base. Perché una cosa che è mancata in questi anni è stata la possibilità, per quanto riguarda la base, di poter incidere sulle scelte. Abbiamo molto spesso dato questo ruolo ai dirigenti e sono quelli titolati a farlo, ma non possiamo permetterci di creare un effetto bolla in cui chi dirige il partito democratico non ascolta la base e non la fa con partecipare alle scelte. I circoli sono la struttura principale attraverso la quale si può fare questo. Poi parliamo specificamente dei temi, ma prima parliamo del dibattito, poi degli avversari. Prima il dibattito, vado diretto, si dice, si è letto sui giornali che ci sia fra lei e il sindaco un dissidio, forse non so, dovuto al fatto che avevate probabilmente due componenti diverse rispetto al congresso. Vi sentite? Che rapporto avete? È vero che siete nemici? Dica la verità. Nemici, io faccio parte dell'amministrazione comunale e quando mi sono candidato con i giovani democratici all'epoca ho contribuito a più di 30 punti nel programma di governo della città, quindi di certo non sono contrario a quelle che sono le politiche e la linea della giunta comunale che esprime questo programma. Il rapporto fra me e il sindaco è un rapporto franco, normale, facciamo parte dello stesso contesto partitico, lo stesso percorso. Abbiamo certo su alcune questioni visioni diverse, soprattutto sulla conduzione del Partito Democratico, ma questo io penso che sia positivo. Il PD è una realtà con tante correnti di pensiero che si devono incontrare, non si devono scontrare e che poi alla fine trovano una sintesi. Io la stavo per chiedere, vi siete scontrati mai? No, non ci siamo mai scontrati dal mese. E vi siete incontrati invece? Molto spesso, su molte questioni legate... Sono curioso, qual è il metodo con cui vi confrontate? Vi vedete? Oppure mandate i vostri emissari? Io sono molto curioso di questa dinamica dei partiti. Adesso glielo spiego perché. Perché poi le chiederò di un partito che è altrettanto organizzato e altrettanto in forza rispetto ai sondaggi. Però prima mi rispondo a questa domanda. Qual è la metodologia con cui vi confrontate? Diciamo, ovviamente, insomma, non sto parlando del dibattito pubblico. Ma allora, principalmente, diciamo così, io e lui fisicamente, personalmente, ci incontriamo molto spesso. A volte in federazione, a volte nel palazzo comunale, che chiaramente essendo consigliere comunale io frequento, sono molte anche le occasioni informali in cui io e il sindaco ci parliamo. Però chiaramente, ecco, io, come ripeto, faccio parte di un partito che ha delle strutture, che ha dei dirigenti. Di conseguenza, è chiaro che comunque le informazioni ci arrivano sempre, anche attraverso le relazioni che ci sono all'interno del partito, anche con la Giunta, derivanti dai vari responsabili tematici. Cioè, diciamo che c'è una comunità e c'è una comunità in movimento. Io, quest'idea dei leader, che si incontrano e che decidono e si confrontano, è importante. Però è più importante che si confronti la comunità. Ci vuole un movimento di comunità. È molto interessante questo. Quindi lei dice, non è più il modello propedeutico, non è si incontrano i leader, poi si discute, ma prima si discute e poi i leader magari si incontrano, senza scontrarsi. Come dice lei, poi magari avverrà un giorno anche uno scontro, non lo so, non possiamo escludere mai niente. Però è stato molto chiaro, anche sulla dinamica di come vorrebbe ricostruire il partito. A che punto siamo con questa ricostruzione? Se uno, un marziano, venisse oggi dopo che è stato in vacanza a Prato due anni fa, vedrebbe una differenza già oggi nel partito oppure potremmo darci un tempo per cui apprezzare questo metodo diverso? Vedrebbe senza ombra di dubbio una differenza nel partito, soprattutto se è un iscritto o un iscritta, perché adesso abbiamo anche i tavoli tematici permanenti che permettono alle persone di poter contribuire alla costruzione anche dei programmi del Partito Democratico. Noi abbiamo voluto dare valore al tema della tessera, della militanza, dando anche agli iscritti la possibilità di dirigere il percorso di elaborazione sulle varie tematiche. Però ecco, dal prossimo mese i tavoli si apriranno a tutta la cittadinanza, a tutti i soggetti, proprio perché, come volevamo al Congresso, noi cerchiamo di attuarlo. Noi vogliamo un partito che si apra la città, che ascolti, che discuta e poi che alla fine possa dire alle persone entrate e cambiateci, perché il PD deve cambiare. Adesso parliamo di temi, ma lo faccio rivolgendomi a lei direttamente come se lei fosse il Partito Democratico. Il Partito Democratico ha paura di Fratelli d'Italia? Lo chiedo perché è un partito organizzato in una struttura simile alla vostra, dal punto di vista, ovviamente non voglio fare paragoni più simili rispetto agli altri partiti che sono più liquidi, mettiamola così, ed è un partito che cresce molto nei sondaggi. Saranno loro i vostri avversari alle prossime sfide, partire dalle comunali, alle politiche? Il Partito Democratico penso sia il vero unico grande partito radicato davvero sul nostro territorio. Penso che noi oggi non ci si debba concentrare tanto sui nostri avversari quanto su noi stessi e sulla riemposizione anche di un centro-sinistra e di un campo che possa arrivare all'amministrativa 2024 con un'idea chiara, un programma chiaro e con la convinzione anche di fare un percorso di comunità. Quindi vi guardate più allo specchio che all'esterno, ho capito perfettamente, poi non volevo interrompere, poi parliamo anche delle amministrative, però adesso voglio andare un attimo sui temi. Qua abbiamo, se me lo permette, che è molto interessante in realtà questa conversazione, potrebbe durare ore anche rispetto alle idee che ci sono, rispetto agli orizzonti, perché non dimentichiamo, nel Partito Democratico è il partito di maggioranza che governa questa città, da cui vi trasmissiamo Prato, la città in cui Marco Biagioni è consigliere comunale, ma anche questa regione, insomma il dibattito è bello grosso. Qua De Biase scrive di Tari che picchia duro, ma noi dicevamo prima, scusate, anche dei troppi ordini del tessile che non ce la fa con Bini, sto parlando della nazione di Firenze. Questo per me è lo spunto, la notizia che prima abbiamo approfondito, per chiederle innanzitutto cosa sta facendo il Partito Democratico, incontra queste realtà, oppure come lo fa, no? E poi insomma ovviamente le chiederò del Lab, quindi mi dica innanzitutto come si pone nei confronti degli imprenditori tessili. Allora, io prima parlavo dei tavoli tematici, non è un caso che il tavolo tematico, relativo al tema del lavoro e dello sviluppo economico, sia nato proprio in questi giorni. Io ho chiesto ad Axel Fazio, un rider di 28 anni, che aveva già avuto il ruolo di responsabile del lavoro per i giovani democratici, di poter guidare questo tavolo. Lo farà? Certo che lo farà. Per studi avete un rider responsabile? Sì, davvero. Questo è interessante. Proprio perché noi anche qua vogliamo cambiare un po' il paradigma, cioè secondo noi non esiste sviluppo economico se non c'è la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e se non si parla di lavoro dignitoso, in ogni settore, in ogni campo. Noi abbiamo fatto questo tavolo, che ora partirà, dopo un giro di consultazioni con tutte le associazioni di categoria e con i sindacati. In particolare, effettivamente il dibattito relativo al Lab del Tessile ci ha permesso di approfondire molto anche il tema appunto del distretto tessile attraverso una serie di confronti con le imprese che si occupano in senso stretto del settore della Fibola del Tessile, ma non solo. E devo dire che quella che si legge oggi qui sulla Nazione è una delle priorità, forse la priorità per quanto riguarda lo sviluppo economico del nostro distretto, perché oggi noi abbiamo il compito di riuscire ad aggregare tutto questo settore distrettuale che è in forte difficoltà, aggregarlo attraverso i propri soggetti di rappresentanza, quindi l'associazione di categoria, i sindacati, aggregarlo in una visione comune che poi porti effettivamente anche tutta l'intera comunità, l'intera città e l'intera provincia a poter elaborare insieme delle soluzioni a questi problemi. Io ci registro questo anche, ci sarebbero a fare un'analisi enorme su questo tema, però ci registro anche questo, da una parte c'è forse il problema più grande in questo momento è il gap che c'è fra la domanda e l'offerta per quanto riguarda le lavoratrici e i lavoratori in questi settori, i giovani in particolare molto spesso non sono preparati a questi lavori o comunque non c'è una vera e propria strategia, anche politica, sul tema e quindi da qua emerge anche tutto ciò che concerne la poca crescita di un distretto che invece ha tutte le potenzialità per crescere. Assolutamente sì, ne parliamo spesso in questi giorni sui giornali, questo è un dibattito che come lei dice giustamente andrebbe approfondito molto di più, però ci sono delle difficoltà, c'è un gap fra domanda e offerta, non solo quantitativo ma anche qualitativo, c'è una difficoltà ovviamente alla preparazione, insomma l'abbiamo letto molte volte in questi giorni, purtroppo sui giornali speriamo che il dibattito crei anche delle soluzioni. Senta però le faccio una domanda scomoda a questo punto, è chiaro che i lavoratori le chiedono di essere difesi, lei ha dimostrato adesso che anche con questa nomina probabilmente vuole mettere attenzione su questo, ma cosa le dicono gli imprenditori? Si dice sempre, magari per una persona di sinistra come lei è ancora difficile parlarci come si diceva un tempo con gli imprenditori, una volta si parlava di padroni, di operai, c'erano anche i comunisti, oggi la classe non esiste più forse, non lo so, cosa le dicono gli imprenditori quando ci parla? Ma io noto questa consapevolezza da parte di molti imprenditori, poi cerchiamo anche di capire quali sono gli imprenditori che portano comunque un contributo anche sociale e reale alla nostra comunità e quelli che invece si arricchiscono attraverso lo sfruttamento lavorativo, che è un altro tema, non so neanche se definirli imprenditori. Esatto, con quelli forse non ci parla. Ma assolutamente no, dobbiamo invece parlare con le persone che sono sfruttate in quei settori. No, però no, invece devo dire che con tanti imprenditori e tanti imprenditrici con cui noi abbiamo parlato, comunque c'è questo dialogo soprattutto nel capire qual è la funzione sociale che può avere l'impresa anche nel contesto dello sviluppo, sostenibile da un punto di vista ambientale e ripeto sociale della nostra comunità. In questo c'è molta consapevolezza, c'è una vera visione sul tema che il Partito Democratico deve assolutamente favorire. Lasciando però sempre come punto iniziale quello della tutela delle lavoratrici e lavoratori. Anche sul tema del Lab, questo è un punto su cui noi stiamo cercando di incidere molto. La convince la svolta green di questa amministrazione, grazie a Valerio Barberis, i suoi progetti? Glielo chiedo perché ci sono dibattiti su questo, anche chi si candida a far cambiare la città e batte molto su questo tasto. Lei è convinto da questa rivoluzione verde? Immagino di sì però. Certo che sono convinto. Io devo dare merito alla giunta Biffoni, soprattutto la prima giunta Biffoni di aver posto le basi oggi per discutere a Prato di una visione che sia realmente green. Noi qui siamo la città del circolare, lo siamo a livello identitario e storico, però oggi noi abbiamo l'opportunità anche di essere un esempio per altre città e altri contesti, così come su tante altre questioni. La forestazione urbana che può essere legata anche al tema, per esempio, della salute mentale attraverso la terapia forestale. Ci sono oggi le basi per poter addirittura andare oltre questa visione e permettere effettivamente di legarla al tema della salute, al tema del sociale, al tema del lavoro. Certo, senta, e ve volevo chiedere questo perché ci sono anche le elezioni all'orizzonte e quindi volevo farle un po' di domande su questo. Prima di parlare di voi volevo parlare un'altra volta degli avversari, anche se so che non ama farlo. Secondo lei l'avversario potrebbero essere le destre o intravede in questa nascita di aggregazioni civiche al centro? Mi riferisco in particolare a questa aggregazione che vede in Jonathan Targetti, insomma, molte realtà, anche politica, di centro, insomma, aggregarsi. Potrebbe essere il terzo polo il vostro avversario in futuro? No, glielo chiedo perché evidentemente il centro e anche le aggregazioni civiche sono un risvolto che nelle città sta prendendo piede. Il nostro avversario reale è quello che noi dobbiamo assolutamente fare in modo di sconfiggere, è quell'avversario che oggi purtroppo noi rivediamo nelle destre e anche nell'opposizione in Consiglio Comunale che guarda il tema, ad esempio, dell'immigrazione o di altri fattori un problema. Noi pensiamo invece che per quanto concerne questa nuova realtà, questo nuovo esperimento, ci sono alcune questioni anche nel dibattito che loro stanno portando che sono interessanti, è un dibattito di qualità, questo c'è da riconoscerlo, su alcune tematiche io credo che effettivamente ci possa essere un confronto. Vedo molto più pericolosa però il centro-destra attuale. Capisco, capisco. Senta, non le ho chiesto più del Lab, io non voglio fare polemiche esterni, per esempio lo dico subito, non chiederò a Biagioni dell'aeroporto che si sa cosa pensa il centro-sinistra o comunque il Partito Democratico sull'aeroporto, c'è un dibattito in corso, tra l'altro lo diciamo perché facciamo i cronisti, non esiste un progetto nuovo ancora da vedere, quindi è inutile, immagino che anche su questo discuterete quando vedrete un progetto, l'anticipo è vero, è così, sarà questo il punto. Però ecco, le chiedo per esempio dell'Hub al volo, c'è ancora qualche problema sull'Hub oppure sono chiare le condizioni? Ma le condizioni sono chiare. Hub del tessile, lo voglio dire, l'Hub del tessile, insomma, quello che permette di appunto diciamo così anche selezionare i rifiuti del distretto. Il PD, penso l'abbia dimostrato, ha dibattuto a lungo su questo tema, con posizioni anche molto discordanti, soprattutto espresse dai nostri circoli territoriali della zona sud. Detto questo, da parte nostra assolutamente sì al Lab del tessile, sì a un'esperienza che possa effettivamente appunto essere d'esempio come aggregatore del settore del distretto tessile pratese, guardando, ripeto, a quello che poi sarà l'indotto anche economico che questo provocherà e alla società delle lavoratrici e dei lavoratori. Certo, senta Biagioni, domande personali, lei è un, diciamo così, un combattente delle minoranze, non solo perché le vuole rappresentare, ma anche perché è stato a lungo, almeno nella mia esperienza pratese per quanto l'ho potuta osservare in questi dieci anni, è stata una persona che combatteva appunto dalla minoranza, ora che maggioranza del partito di maggioranza della città, si trova in difficoltà e si sente a volte fuor d'acqua, è più difficile, è più complicato. Ma in realtà no, cioè io sono fedele a quella che è sempre stata la mia linea, cioè dare l'opportunità a tutte le minoranze di potersi esprimere e poter stare nel dibattito, credo oggi di avere il potere di porre le basi all'interno del Partito Democratico affinché ci sia una vera discussione fra tutte le posizioni interne e che a tutte venga dato protagonismo. Non c'è stato un momento nel quale in questi mesi di dibattito, essendo lei appunto leader di una componente che ha preso anche il controllo della struttura, non c'è stato un momento in cui hai detto, però era più facile quando si poteva andare contro, quando si poteva protestare? Ma certo che era più facile, ma io avevo anche un altro ruolo ed ero in un altro contesto, io oggi sento di avere una responsabilità e credo che io debba essere colui che garantisce appunto che anche queste minoranze possano continuare anche a protestare contro di me se necessario. Quando è successo che si è sentito di diventare grande? Se posso chiederglielo una domanda personale, nel senso una responsabilità che lei adesso sente, ma c'è stato un momento in cui si è reso conto che le cose cambiavano? Personalmente, questa è proprio una cosa personale, io non mi sono minimamente reso conto di quello che sono andato a fare quando sono stato eletto segretario, nel senso che non avevo ancora la capacità di comprendere esattamente che cosa volesse dire, più che altro come poi la città le varie rappresentanze si sarebbero poste con me, io mi sono ritrovato nel giro di poco tempo comunque a parlare con molti soggetti che non conoscevo a nome di un intero partito e quindi di un'intera comunità molto più grande di quella che prima rappresentavo e questo mi ha fatto comprendere che sì, è lì che è scattato, ha la consapevolezza che ho una responsabilità e quindi forse devo crescere. Ha più nemici oggi di ieri, immagino? Questo non lo so, non credo di avere nemici, credo di avere, nel caso delle persone che comunque la pensano diversamente da me e che chiaramente fanno la loro parte, parliamo più di avversari. Ma sì, ma certo, io ho ovviamente calcato la mano e esagerato, però non posso che chiederle anche qualcosa sul suo impegno in Consiglio Comunale, gli spiego perché, perché abbiamo parlato per un quarto d'ora abbondante nel partito che lei guida ed è una cosa importantissima, però come dicevo prima, lei ha preso anche, si può dire, un sacco di voti per fare il Consigliere Comunale, quindi rappresenta, lei ha detto prima, fa parte dell'amministrazione, ma funziona il Consiglio Comunale? E' ancora, questa è una domanda che ricorre con i miei ospiti, è ancora un luogo di discussione che produce delle decisioni? Sia sincero. Anche qua, io devo dire una cosa, per molto tempo noi abbiamo avuto un partito democratico che ha dato alla sua amministrazione comunale il compito di elaborare molte delle scelte, adesso noi ci troviamo in una fase in cui il PD vuole ritrovare il protagonismo e lo deve fare anche attraverso il suo gruppo consigliare e la sua maggioranza, che insomma in questi mesi si sta riorganizzando anche per poter... Quindi anche lì c'è un piccolo lavoro da fare, dice lei. C'è un piccolo lavoro da fare, più che altro ora se posso fare una battuta, più che in relazione a noi, che comunque bene o male come gruppo siamo un gruppo unito, che porta anche proposte, dall'altra parte noi abbiamo difficoltà a trovare un'opposizione con cui poter dialogare, perché non esprimono, almeno secondo quello a mio parere, una visione chiara di città, quindi non c'è un dibattito su due visioni, c'è un dibattito su una visione e chi è contrario. L'abbiamo visto sul lab del Tessile, c'era un sì, ma non abbiamo ancora capito se sono d'accordo oppure no. Capisco, senta, mi dia, insomma, nell'ultima domanda, mi dia una notizia, chi è il prossimo candidato sindaco del centro-sinistra, oppure mi faccio un'identichita o mi dica come verrà scelto. Non è alloggi. Ah, no, scusi, qua gliela devo fare la domanda, ma qua Biffoni ha detto sì, forse il terzo mandato non è poi così, insomma, non è il male assoluto, insomma, ha fatto capire che questo mestiere gli piace molto, insomma, che potrebbe, davanti ad una legge, spieghiamo anche per chi ci ascolta, che permetta di poter fare un terzo mandato da sindaco, oggi non è permesso, ha detto che forse sarebbe disponibile. Beh, insomma, lei questa cosa come la vede sindaco Biffoni per la terza volta, le piace questa idea? Ma sarà il Partito Democratico a decidere chi sarà il futuro sindaco o la futura sindaca. Come? Ecco, appunto, anche qui cambiamo paradigma, attualmente non è all'ordine del giorno del dibattito del PD l'individuazione, l'identikit del sindaco o della sindaca futuri. In realtà noi dobbiamo assolutamente oggi lavorare per un programma, per una visione, non lo possiamo fare solo come Partito Democratico, la nostra comunità sarà chiaramente protagonista nella scelta di tutte le fasi che ci porteranno alle amministrative, lo dobbiamo fare con un campo molto più largo, che vada oltre il Partito Democratico, che riguardi altri partiti, altri soggetti che condividono i nostri valori, i nostri principi e che contribuiscono a una visione. Solo a quel momento parleremo anche della candidatura. Della persona, dice lei. Della persona. Questo, insomma, sarà appunto il Partito Democratico, neanche io sarò quello che sceglie, ma sarà l'intera nostra comunità che sceglie. Certo, certo, però è interessante anche avere la sua opinione, visto che lei che guida questa comunità, diciamo, la porterà almeno come princeps inter pares tra gli altri. Insomma, almeno questo lo abbiamo chiarito. Biagioni, io la ringrazio tantissimo di questo dialogo e spero che possa tornare presto a discutere con noi come facciamo ogni giorno qui in questo programma, in questa rassegna stampa ragionata. ringrazio anche i nostri ascoltatori, sia quelli di TV Prato, prima ho ricordato l'importante evento che ci attende, cioè il cambio del canale appunto sul 75 e il fatto che possiamo vederci in tutta la regione e anche quelli che ci ascoltano ovviamente su Spotify ogni giorno quando finisce il programma. Vi do appuntamento come ogni giorno domani con Prima di Tutto. Questo programma è stato offerto da Conf Commercio Pistoia e Prato, scopri i vantaggi di essere social.